Cimico, questo è il complesso del playboy, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, non è detto che la non so quando l'abbia scritto comunque, mai sazio, attenzione, questo è un playboy seriale, è la diagnosi del playboy seriale, proprio diagnosi dell'egocentrico playboy seriale, parlo ovviamente delle donne. Andiamo avanti e ne abbiamo conferma, com'è che era? Lui era il maschio beta, rispettoso delle donne, le donne che parlano, com'è gli uomini sbagliono a copiare le donne che parlano, allora, ma non avrai mica messo davvero le calze? Eh? Aspetta, l'ultima tirata ieri sui giornali, ma esistono i vedi che... l'ultima l'ha tirata ieri sui giornali. Aspetta, se scorrezzi durante il 69... Comunque le donne con tanti... Se scompensano... Allora Padrelli dice con le tette piccole, se scompensano con il culo... E questo è il profilo che segue, di cosa stiamo parlando? Questo è un playboy, erotomane, perverso, è lui.